Credo che questo campionato forse sarà uno dei più difficili degli ultimi anni perché sono tutti lì, sono risultati che è molto difficile riuscire ad avere tanti risultati perché sono molto soddisfatto anche di quello perché è una striscia di risultati positivi che ci ha permesso di rientrare, come dicevamo prima, nella lotta. Quindi oggi ci siamo nella lotta, però questa lotta non è a due, non è a tre, secondo me a quattro, a cinque, credo che può succedere un po' di tutto. Non mancherà un grande campione che è Francesco Totti. Credo che è sempre un grandissimo giocatore, è normale che ci siano dei problemi, ha l'influenza e non ci sarà per quanto ho capito. Sicuramente ha una risorsa in più che perde la Roma, ci mancherebbe altro. Credo che rispetto alla partita in sé è vero che è diventata una partita sempre stata, però credo che negli ultimi anni, anche ai finali di Coppa Italia, anche in campionato, la lotta per il campionato, l'anno scorso è stato fino alla fine in lotta per pochissimi punti, quindi questa è la dimostrazione non solo di quanto sta bene la Roma, ma di quanto riesce a mantenersi lì, perché sono tanti anni che la Roma lotta, che la Roma arriva in finali, come dicevamo, in Coppa Italia, quindi è diventata una partita sempre di più tradizione, con un passato recente molto molto importante. Chivo abbiamo già parlato, credo che è un ragazzo straordinario, è vero, ha sbagliato, e credo che è stato il primo a riconoscere, abbiamo già visto cosa ne pensa lui di quella situazione, credo che sia una cosa archiviata, giustamente è stato squalificato, credo che l'Inter giustamente non ha fatto neanche un rincorso, perché ha capito il problema, detto questo finisce qui. Rispetto anche alla condizione di tutti sarà decisa anche la formazione, abbiamo alternative, è vero che è arrivato Nagatomo, ha fatto pochi allenamenti, ma è molto dentro già il gruppo, anche a livello di ambiente si è ritrovato subito, e questa è una cosa molto positiva, è simpaticissimo il suo modo, si è inserito, l'ha accolto molto bene, e questo facilita sicuramente una prestazione in campo, e dopo decideremo domani sinceramente. Questa squadra offre la possibilità di scelta, e credo che sia la cosa più importante.